Vieni dal veterinario o vieni da me che me l'hai pagato? Dì, dove vai? Vai dal veterinario? Vieni da me perché vuoi i tuoi soldi indietro o vuoi che ti dia un altro cavallo? Allora tu a questo punto mi dici cosa cazzo ti serve la visa se te lo garantisco io e ne rispondo a termini di legge perché io ti do 40 giorni oppure 60 giorni per i vizi dei dimitori per il resto vediamo se avremo va bene o no? Ma no, ma delle volte lo facciamo? Oh ma salta o no sto cavallo? Ah forte, forte Vero o no? Sì, bravo, bravo Non è che semplicità Poi poi deve saltare un metro e dieci Sì ma faccia per dire la sua semplicità non è Sì, 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 è quello che mi crede Dopo in quel campo lì è tutto un giro di qua e di là I cavalli devono fare anche i miracoli Ma non è tanto grande sto maffio lì Quanto è grande? No, è piccolissimo in quel campo Poi ha messo su una zero, pensa a te E' un coglione di uno Paolo? No, il fratello Eh? Antonio Antonio, ecco Quello era un coglione da ragazzo Ma Antonio, quello che andava a insegnare alla torretta? Sì No No, il fratello, come si chiama? No, Paolo E' dei baffi? Sì, quello qui è baffi Quello è Antonio Sì Paolo è fratello Sì